Prima sconfitta in campionato dopo due affermazioni consecutive per l'Ommia-Bitonto. Una vittoria esterna con il punteggio di 2-0 di notevole peso specifico per il Casarano che può avere enormi benefici per la classifica e per l'autostima del gruppo. La sfida di cartello della sesta giornata di eccellenza, anticipata di 24 ore per evitare la concomitanza con la festa dei Santi Medici, a Bitonto sorride ai salentini di Pietro Sportillo che salgono ad 11 punti in classifica. Restano bloccati a quota 9 invece gli Omniani che mettono fine all'inerzia positiva determinata dall'arrivo in panchina di Pasquale De Candia. Padroni di casa a trazione anteriore con Turitto, Patierno, La Carra e Lo Iodice, maglia da titolare in mezzo al campo per lo Grieco, reduce da un lunghissimo stop per infortunio. Ospiti con Lo Russo al fianco di Caputo e Pignataro inizialmente in panchina. I Baresi perdono Montrone dopo pochi minuti per un problema alla spalla, dentro al suo posto Nicola Fumai. Provano a fare inizialmente la partita ai padroni di casa, Patierno liberato al tiro dalla Carra, calcia fuori misura. Idem dalla parte opposta a metà frazione, Caputo sulla corta respinta della difesa di casa. Non è un primo tempo memorabile, La Carra sugli sviluppi di un corner colpisce di testa ma trova sulla traiettoria il suo compagno di squadra Campanella. Lo Iodice su punizione fa solo il solletico a Montagnolo. Brividi per i Bitontini prima del riposo, cross insidioso dalla destra di Strignano, Lo Russo non trova per poco l'impatto con il pallone. 0-0 dunque all'intervallo, Casarano impeccabile tatticamente, Omnia imbrigliato e poco pericoloso. Il copione della partita non cambia più di tanto anche al rientro dagli spogliatoi. Turitto crossa dal settore destro, la Carra di testa non inquadra lo specchio. Lo Iodice si libera bene al tiro ma fallisce la mira. Lo stesso ex esterno del Cerignola ci prova su punizione ma senza incidere sul punteggio. Il risultato cambia a nove minuti dal termine. Lizzano affronta così Rescio per gli Omniani e palla piena per l'albitro c'è il contatto ed è calcio di rigore. Dal dischetto Caputo non sbaglia e porta in vantaggio il Casarano. Prova subito a reagire l'undici Bitontino ma la conclusione da fuori area di Lo Iodice viene neutralizzata da Montagnolo. Il parziale cambia di nuovo allo scadere ancora con Caputo che si libera dai difensori di casa, batte Lizzano e fissa il punteggio sul definitivo 2-0. Tre punti pesanti dunque per il Casarano, soltanto amarezza e rabbia per l'Omnia.